C'è rammarico e non solo. Nelle parole dell'ex assessore al comune di Faenza, Domizio Pirodi, è su una vicenda che lo ha visto dimissionario ed esautorato dalla giunta guidata dal sindaco Malpezzi. È stato molto sorprendente questo fatto perché il sindaco mi ha convocato e in tre minuti mi ha comunicato questa decisione motivandola in maniera sommaria. Mi sono rimasto male perché non me l'aspettavo e anche perché vengo da una decina d'anni di collaborazione, sono stato uno dei primi sponsor di Malpezzi ai tempi delle primarie e per dieci anni abbiamo dato una mano a questa maggioranza. Dopodiché di conseguenza è venuta meno anche la fiducia ovviamente, quindi mi sono dimesso dallo sviluppo economico da quest'altro assessorato perché non ritenevamo più di percorrere ancorché nel finale un percorso assieme a questo sindaco e a questa maggioranza. Ora siamo per cambiare, più viva che mai, tra l'altro questi fatti hanno portato ad avvicinarsi tante persone perché la società civile non si riconosce più nei partiti tradizionali e quindi vede in questa formazione nostra politica la possibilità di contribuire ai bisogni della città e a fare delle proposte senza doversi per forza iscrivere a un partito. Abbiamo messo molta passione e quindi abbiamo il settore urbanistica, siamo riusciti a portare delle innovazioni soprattutto a ricreare un clima di fiducia tra tecnici e amministratori e adesso ci sono delle cose da terminare spero che il sindaco trovi il tempo per portarle a termine, in particolare faccio alcuni esempi la tribuna doppia falda del campo sportivo Samorini oppure questa opportunità che è recentissima di fare un maneggio nell'area di proprietà dell'azienda agricola Le Cicogne.